L'accordo c'è e dopo settimane di lockdown prevede la riapertura di scuole, negozi, si parla addirittura della ripresa della Bundesliga, seppure a porte chiuse. L'intesa tra la cancelliera Angela Merkel e i governatori dei Lander è subordinata a qualche condizione. La proroga del distanziamento sociale fino al 5 giugno e un piano di rientro in caso di difficoltà. Se abbiamo differenze regionali, e le abbiamo, dice Merkel, se abbiamo bassi tassi di infezione, dobbiamo però anche avere un meccanismo di emergenza. Se nelle regioni ricompaiono i focolai di contagio, allora dobbiamo essere in grado di reintrodurre misure speciali dove occorrono. Dalla prossima settimana la Germania riapre esercizi commerciali e musei, riprendono anche le attività sportive, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. Saranno i governatori, d'ora in avanti, ad assumersi la responsabilità in merito all'allentamento delle misure. A una condizione, nelle città con oltre 50 nuovi contagi per 100.000 abitanti, nel giro di una settimana si reintrodurranno nuove restrizioni.